Ti piace? Amore, bellissimo! Ma sarai stupendo, eh? No, non hai capito. Questo è il tuo abito da sposo. Ah. Qualche problema? No, no. È carino, è carino. Turbante, proprio obbligatorio? Sì, certo. Ma perché le cose non le chiedi prima? Tutto è per scontato? Che dico sempre di sì. Va bene. Per favore. Puoi metterti il turbante a matrimonio? Sei bello. Va, va, va! Eh, dai, scusa, mo, sono un po' nervoso. Mancano dieci giorni alle nozze, quei due ancora che stanno litigando. Sono proprio due caprosi. Che c'entra mio padre? Lui è sempre gentile. Sì, gentilissimo. Come a te. Ma però bisogna fare tutti come dice lui. Io, mio padre, mia madre. Pur zi pepì. Ma lo sai? Lui ha le sue culture, le sue tradizioni. Eppure il mio tiene le sue. E per te la vostra tradizione è la nostra ignoranza. Ma dovevamo stare qui litigando sui nostri padri? No, noi non stiamo parlando dei nostri padri. Stiamo parlando di noi. Perché io mi devo sposare con un ciondole in testa che siamo una dracquina? Però se mi scappa di che tu padre è uno caprone, tu ti arrabbi. E io devo far finta di essere uno principe. Ah, vuoi dire che col me fingi di essere diverso da quel che sei? No, io dico che io so io. E che se mi viene da dire, mannaggia, gli stramurti, lo devo poter dire. Beh, in ambasciata non mi pare il caso. E forse l'ambasciata non è posto a me. Se pensi questo, forse dobbiamo prendere una pausa. Sott'accordo.